Ciao leggine, ciao leggini, buongiorno e benvenuti a questa nuova lettura della settimana. Mi raccomando, guarda il video fino alla fine perché poi ti farò il recap di quelle che sono le carte uscite, quindi la parte più importante. Allora, mentre mischio, se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito. E se questo video ti piacerà, regalaci un like. Faremo questa lettura con il mio oracolo, l'oracolo dei registri Akashi. Ci prenderò tre carte che ci rappresenteranno la settimana. Questa prima carta è l'inizio della settimana, questa seconda carta è la parte centrale della settimana e la terza carta, quindi se non ho invertite, è la parte finale della settimana. Ora le andremo a vedere insieme. Siccome mi chiedete tantissimo di saperne di più dei registri Akashi, ho creato una guida gratuita. Molti di voi l'hanno già scaricata. Chi non l'ha ancora scaricata, qua sotto nell'info box c'è un triangolino messo con la punta in giù, ci clicchi sopra, ci si apre, hanno tutte le informazioni e trovi anche il link per scaricare questa guida gratuita. Così ti puoi fare un'idea di che cosa sono i registri Akashi, se li possono leggere tutti o solo alcuni, se... insomma tutto quello che c'è da sapere. Ok? Andiamo a vedere che succede lunedì, martedì e cavallo di mercoledì. Oh, delle porte iniziano ad aprirsi. Questo è fondamentale perché siamo stati in un momento di chiusura, no? Chi, meglio di noi che abbiamo vissuto una vera e propria quarantena mondiale, ha il bisogno di sentire delle porte che si aprono. Può anche proprio essere solo una sensazione interiore. Se fosse anche esteriore, quindi riprendesse la normalità a tutto tondo, sarebbe ancora migliore. In alcune parti del mondo, diciamo così, sta riprendendo di più, in altre di meno. Per esempio, io non sono in Italia. In Italia voi avete ripreso molto di più di dove sto io. Per esempio, in questo momento dove siamo ancora in una fase praticamente di lockdown. possiamo uscire poco, le spiagge sono ancora chiuse, forse questa settimana le aprono. Qualche volta, se segui il mio profilo Instagram, vedi che io tutti i giorni vado a controllare se hanno riaperto le spiagge, perché io ho questo rapporto con il mare. E a volte le troviamo aperte, a volte le ritroviamo chiuse. C'è un braccio di ferro tra il governatore di Bali e il reggente della nostra reggenza. Bali è divisa in reggenze. Vabbè, non mi sto a perdere nella geopolitica balinese, ma forse questa è la settimana in cui alcune cose riprendono veramente. Le alcune parti si riaprono. Quindi aspettati un portone che si apre e aspettati e sii pronta ad entrare. Potresti ricevere un sì a una domanda che hai fatto. Potresti ricevere un sì ad una, come dire, a una candidatura che hai proposto. Insomma, potresti ricevere un sì come risposta. Quindi preparati e stai con gli occhi aperti. Nei primi giorni della settimana. Nella parte centrale della settimana, invece, la carta di mezzo, Tadam! Chiaro senzienza. Nella parte centrale della settimana dovrai un po' prepararti. Questo dono è in risveglio. La senzienza è proprio un extrasenso, un forte risveglio in questo momento proprio della vita di Gaia, del pianeta Terra. Arriveranno delle cose sugli extrasensi. Non vi do spoiler, però sto al lavoro su delle cose degli extrasensi. Perché? Perché questa nuova era, che è un pochino zoppicante, poverina, cerca di affermarsi. Perché, insomma, lo scrollone c'è stato, però in effetti non c'è ancora proprio, come dire, questo ancoraggio della nuova era. Si va un po' così zoppicanti. Il risveglio degli extrasensi può essere un'arma, può essere una freccia all'arco di chi vuole andare verso questo risveglio così complicato e turbolento. E la senzienza questa settimana ti permetterà di provare con il tuo corpo. A tantissimi delle persone che seguono i miei corsi di registri akashici e di channeling, a volte mi dicono, ah, non riesco a sentire le risposte. Io dico sempre loro, forse non è il tuo extrasenso l'udienza, la chiara udienza. Forse tu percepisci, forse provi dei brividi, forse hai delle emozioni forti. Dici, sì, in effetti mi sono commosso, sì, in effetti ho i brividi. Ok, allora cerchiamo, in questa nuova era, di guardare le differenze e non cercare di essere tutti omologati. Udire, vedere, no? Sono degli extrasensi, sono la chiara udienza, la chiara veggenza, ma non abbiamo tutti gli extrasensi, o meglio, con il tempo si arriva a svilupparli tutti e quattro. Il quarto è la chiaroconoscenza, ma all'inizio ciascuno di noi ne ha uno più sviluppato. E moltissime persone in risveglio in questo momento hanno proprio la chiaroconoscenza. Senzienza. Quindi, se questa settimana, se va bene, hai fatto il corso di registri, stai a registri aperti e vivi tutto con la tua chiarosensienza. Se hai fatto il corso di channeling, parla con i maestri tutto il tempo che puoi e ricevi i tuoi messaggi con la senzienza di entrambi i corsi. Vi metto il link sotto, sempre nell'info box, insieme alla guida gratuita. Ma se anche non hai fatto niente, affidati al tuo istinto. Quante volte, magari, se sei una persona con la chiarosensienza a pelle, come si dice, no? Una persona ti piaceva o non ti piaceva? Se ti piaceva, sicuramente. Se non ti piaceva, anche lì sicuramente avevi ragione. Quindi, affidati al tuo istinto. Affidati al tuo corpo che parla. Il corpo che parla, parla con chiarosensienza, ossia io provo. Provo piacere, provo negatività, entro in un posto, non mi piace, sento brutte vibrazioni. Tutte queste frasi sono la spiegazione alla riattivazione della chiarosensienza. Dove deve portarti questa chiarosensienza? Una porta si apre per condurti in una nuova strada. La chiarosensienza si riattiva. Per andare dove? La terza carta nel weekend te lo ritrovo. Che belle! Per portarti alla tua divinità interiore. È ora di giungere alla tua divinità interiore. Anche qui posso darti dei consigli. Sempre nell'info box ti posso mettere il corso per il risveglio della dea interiore. È giunto il momento di rientrare in contatto con la propria divinità interiore. Puoi farlo in mille modi. Quello che ti metto io è uno, ma ci sono mille e mila modi. E devi sceglierli sempre tu con la tua chiarosensienza. Se appunto riesci a percorrere i sentieri, quindi conosci le tecniche di channeling, puoi farti guidare. Nel secondo sentiero puoi andare ad incontrare la tua dea interiore. E lei ti guida. Ti può guidare verso dove devi andare. Cari leggine, ci dobbiamo sbocciare, dobbiamo andare nella nuova versione di noi stessi, nella versione 2.0. Ma non perché non vada bene la nostra versione, semplicemente perché appunto quest'era sta cambiando. Per andare nella nuova era dobbiamo un po' essere nuove anche noi. Quindi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso va benissimo, qualunque cosa abbiamo fatto va benissimo. Ma adesso dobbiamo andare verso la nuova me, la nuova te, la nuova noi. Quindi questa settimana lavori generali per andare verso la nuova te, ok? Mi raccomando, una nuova te che risveglia la sua divinità interiore, che risveglia la sua chiaro sensienza e che non ha paura di percorrere un sentiero sconosciuto, ma è sconosciuto perché è nuovo. Quando eravamo piccoli e abbiamo imparato a camminare, non è che ogni volta che siamo caduti dicevamo non saprò mai camminare. No, eravamo bimbi, ridevamo o piangevamo se volevamo l'attenzione dei nostri genitori, però poi ci rimettevamo in piedi e ricominciavamo. Un po' di tempo fa ho visto la bimba di miei amici che stava imparando a saltare. È stata una scena deliziosa, tenerissima. C'era un gradino che una persona adulta come noi farebbe proprio con un passo, neanche te ne accorgi. Tutto il tempo che noi siamo stati insieme a chiacchierare, eccetera, lei si è allenata. Si è allenata a saltare, tre anni, a saltare da un gradino all'altro, a salire e a scendere, a salire e a scendere a fine aperitivo che abbiamo fatto noi, quando tutta fiera ci ha mostrato un gradino così. Ecco, dobbiamo tornare un po' bambini, riprenderci la nostra divinità interiore, riprenderci il nostro extrasenso della chiaro sensenza, imparare a fidarci, perché poi il più grande problema, ed è su questo anche che sto vertendo il nuovo lavoro che sto portando avanti per aiutarvi negli extrasensi, è la problematica del giudizio che abbiamo verso di noi, del sentirci sbagliati, del sentirci matti, del sentirci non corretti. Molte volte gli extrasensi vengono bloccati dal fatto che noi per primi non riusciamo a fidarci, però se non impariamo il dialogo interiore attraverso i nostri extrasensi, è vero che a volte bisogna capire quando è la voce dell'ego, quando invece è la voce interiore, eccetera, ma parlano due lingue completamente differenti. Quando facciamo il corso di registri, questo lo spiego a chiare lettere, mi dicono sempre come faccio a capire quando sono i registri, quando sono la mente, più che altro l'ego, beh, parlano in un modo molto differente. Quante volte hai sentito quella voce interiore che ti dice tipo sei pessimo, tu questa cosa non la farai mai, sei negato, sei brutto, sei grasso, sei goffo, gli altri sono meglio di te, guarda gli altri cosa fanno, guarda te, ecco. Quella è una voce critica, è una voce appunto di ego, non è una voce d'amore. Il nostro istinto, sono certa che almeno una volta tutti lo abbiamo provato, è quella volta che il corpo ti parla, il corpo ti dice tipo quella persona non mi piace e non ti ha fatto niente, forse anche la prima volta che l'hai vista, ma a pelle non vi trovate. E non è cattiva quella persona, non sei cattivo tu. E sono giudizi di valore, no? Ma semplicemente non vi trovate, non c'è alchimia, ok? Così parla un extrasenso, così come invece i registri, parlano in una modalità di frequenza, di puro amore, con a volte pochissime parole che cambiano completamente tutto, perché riprogrammano la frequenza, o i maestri che fanno lunghe chiacchierate di infinito amore, parlano sempre con gentilezza anche quando ci devono rimproverare, ci dicono no, come ultimamente, che moltissimi dei messaggi canalizzati dai maestri dicono, ne si dice in inglese, ciop ciop, diamoci un po' da fare, no? Questa nuova era arriva e noi non gli stiamo così dietro, quindi diamoci un po' più da fare. Però ce lo dicono sempre in un modo amorevole, in un modo motivazionale. Quindi in realtà quando si lavora veramente con degli strumenti e si impara a comprenderli, questi strumenti iniziamo a riconoscerli. Fate sempre un paragone con la vostra vita normale, l'andare in bicicletta o, non so, segnarsi in palestra, all'inizio non si è bravi, come, non so se si dice, no? A Roma si dice non si nasce imparati, penso si dica un po' ovunque, no? E non si nasce imparati, però si può imparare. E questa settimana puoi imparare a raggiungere appunto la tua divinità interiore e dialogarci. Mi raccomando, se hai fatto il corso di channeling, vai nel secondo sentiero dove puoi parlare con la divinità interiore. Se ancora non l'hai trovata, puoi fare il corso della Dea interiore. Se hai i tuoi registri, chiedi ai tuoi registri cosa, come riattivare il dolo della chiaro sensienza. Perché? Perché c'è una strada che si apre e devi iniziare a percorrerla. E questa strada ti verrà annunciata con un bel sì. Quindi attendiamo il nostro sì. Ti auguro una settimana meravigliosissima. Tanta luce.